Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento, approfondimento di stampo politico, siamo praticamente alla tornata finale, mancano esattamente sette giorni, poi si voterà, però continuiamo a conoscere i protagonisti di questa tornata elettorale 2019 e insieme a noi che lo salutiamo subito, gradito ospite, Edoardo Carboni, benvenuto, buonasera, allora Edoardo Carboni è segretario della lista civica Noi Giovani a sostegno del sindaco Seri per la sua riconferma come secondo mandato, allora in questi cinque anni in cui ha ricoperto questo ruolo così importante per una lista che sicuramente si è messa al centro di tante argomentazioni politiche in questi anni, qual è stato un po' il suo percorso per arrivare a questo giorno? È stato un percorso impegnativo perché nonostante l'impegno poi è stato molto bello, di questo devo ringraziare sia i ragazzi per avermi nominato segretario, perché nel 2014 io sono stato nominato segretario della lista, sia Massimo che ha dato la possibilità a tanti ragazzi di esprimersi tramite una lista civica, libera, senza impedimenti di alcun partito da Roma o da Ancona, cioè comunque c'è stata molta libertà. È un percorso che ho ritenuto necessario e giusto che si coronasse come una candidatura quest'anno alle elezioni, nel sostegno di Massimo Seri e che spero porti ancora a parlare di questa lista, di questa realtà. Ecco, è una lista che ha toccato argomentazioni che sicuramente per il mondo giovanile sono importanti, però di grande impegno e quindi insomma le chiedo quali sono alla base le motivazioni che l'hanno portata a questa decisione di mettersi in campo proprio direttamente. Sono state nel 2014, quando sono stato eletto segretario, ho cercato insieme ai ragazzi chiaramente di invertire una grande tendenza, cioè che le politiche giovanili concepite come sono state fino adesso fossero politiche fatte per i giovani. E cosa vuol dire politica fatta per i giovani? Nel senso che i giovani hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno di esprimersi in tanti campi della vita cittadina. Quindi abbiamo invertito questa rotta dicendo che le politiche per i giovani sono le politiche fatte dai giovani. Questo significa per noi l'impegno reale della politica che guarda al futuro. Quindi le nuove generazioni vanno coinvolte, vanno prese e dato un ruolo importante, un ruolo di responsabilità. E una società che non ha il coraggio di ripartire da nuove energie è una società che è finita, è persa. Vediamo anche la media dei politici a livello europeo, a livello internazionale che è molto più bassa della nostra. Questo che segno è secondo lei? Beh è un segno importante. Io lavoro molto spesso all'estero. La scorsa settimana ero a Malta, ho conosciuto il loro ministro del tesoro, che è un ragazzo dell'età mia, che si occupando appunto, l'ho conosciuto perché fortuitamente in maniera casuale, è un ragazzo dell'età mia, nel senso per loro è normale, sono società che sono realtà, anche in Europa che è normale che un ragazzo di 30 anni si impegni. Per quello quando io molte volte vedo sì, sei un giovane, dovresti fare più esperienza, però all'estero ti viene data, nel senso se non sei tu, giovane, con nuove energie, nuove idee, poi puoi anche sbagliare. Qual è il problema? Sbaglia pure. Però bisogna che ti siano date delle responsabilità, però c'è un però. Anche questo io ho cercato di portarlo come tema principale, che essere giovane non è un merito politico, è un merito anagrafico, è un dato anagrafico, si è giovani. Il problema è che quando tu sei giovane e alla tua età unisci nuove idee, nuove energie, competenze nuove, perché il mondo di adesso richiede nuove competenze che molti di altre generazioni non hanno più, allora quello è il valore vero, è il vero valore aggiunto della politica. Ecco, allora questi cinque anni passati in questo crogiolo di giovani idee e di giovani persone, come sono stati? Qual è stato il percorso da quando avete fondato Noi Giovani ad oggi? Beh, è stato un percorso al fianco di Massimo, seri, per dargli un tocco di novità. e abbiamo subito dal primo momento detto che dobbiamo toccare tutti i temi, perché se vogliamo creare un progetto politico che poi possa dare un domani, gli stessi strumenti che abbiamo avuto noi ad altre persone, dobbiamo pensare che i giovani devono toccare tutti i temi. Significa parlare di urbanistica, significa parlare di formazione, di università, significa parlare di sanità, significa parlare anche di bilancio e noi abbiamo cercato di entrare in tutti i temi, con le nostre idee, cercando di non essere mai scontati, mai retorici, perché la politica soffre un momento di retorica tremenda proprio perché non ha idee. E soprattutto abbiamo cercato di invertire anche la famosa tendenza di chi fa politica e dice di non essere politico. Una volta mi insegnarono che chi sconfessa se stesso è un mediocre o un bugiardo. Io sono un politico, non lo so io in questo momento, ma se fossi un politico direi sì, faccio politica, lo faccio per la città, per il bene della città, con le mie idee e quindi mi prendo la responsabilità di esserlo. Noi abbiamo i ministri a Roma che dicono sì, ma non sono un politico, faccio il ministro, ma non sono... e allora cosa sei? Bisogna prendersi un po' più di responsabilità a questo mondo. Quali sono state le cifre distintive di questi cinque anni? Le cose che si porta dentro in questi cinque anni di lista? Con orgoglio mi porto dentro una lista che ha tante speranze ancora da mettere in campo, e tanta voglia di fare. E con loro aver visto giusto su tanti temi. Biotecnologie e biologia marina, siamo stati i primi a dire serve un campus in quel posto, bisogna rivisitarlo quel posto, rivederlo. E ci hanno dato ragione. Ci hanno dato ragione l'Università di Bologna insieme all'Università di Urbino, è stato fatto un progetto serio insieme a altri enti. Quindi forse avevamo ragione, noi l'abbiamo scritto cinque anni fa. Abbiamo avuto ragione sull'affano dei Cesari. Cinque anni fa abbiamo scritto dobbiamo riprendere con la manifestazione, perché nessuno la voleva più, perché qualcuno aveva interpretato male il messaggio, perché avevamo detto è quello. Ed è stato fatto in maniera splendida da Massimo insieme alla Proloco, insieme all'assessorato alla cultura e al turismo, è stato fatto un lavoro straordinario. Però noi l'abbiamo scritto cinque anni fa. Su tanti temi avevamo ragione. Anche nel piccolo, mi ricordo un piccolo articolo di cinque anni fa, che poi passò quasi inosservato, sul fatto di destinare parte delle prestazioni sanitarie, cioè la prenotazione del CUP, alle farmacie. Ci hanno dato ragione anche su quello. Allora forse abbiamo visto giusto su molti argomenti. Vi sentite un po', diciamo, con la sordina, nel senso che vi sentite di dover alzare un po' più la voce. Magari il mondo politico, la politica in generale, ecco, a proposito di spazi, di modi di esprimersi. Un po' vi, secondo lei, perché ha paura delle vostre idee o perché è così poco substratto? Racconto sempre una storia, nel senso che sono vent'anni, anche quasi trenta, che in questo territorio le prime file dei teatri sono occupate dalle stesse persone. Quelle stesse persone sono quelle che dicono che hanno fiducia nei giovani. Finché diranno questo vuol dire che stiamo lavorando male. Nel senso che dovrebbero avere più paura e pensare che quelle prime file un giorno saranno occupate da altre persone. Serve un conflitto generazionale, chiaramente pacifico, e una politica che metta al centro della sua agenda il ricambio generazionale di questo territorio. Per farlo dobbiamo invertire la tendenza del giovane che pietisce, perché niente ci è dato per scontato, ma ce lo dobbiamo prendere. Chiaramente dobbiamo sgomitare in maniera sportiva, in maniera con competenze. Ecco. Allora, visto che le idee ce le avete, la sua visione di città, di Fano, insomma, come progettualità, come cose da mettere in campo, qual è? Io, come si vede dietro, ho voluto lavorare su tre temi importanti. Lavoro, formazione, università. Anche contro la tendenza di dire non è un comune che si deve occupare di questo. È sbagliato. Per quanto riguarda l'università, noi abbiamo Fano Ateneo, che è un piccolo pollo, ma che ha grandi potenzialità. Ha grandi potenzialità perché, per esempio, viene in mente biotecnologie. Biotecnologie è un mondo in totale ascesa, sia in Italia che in Europa, chiaramente più in Europa, perché poi ci sono stati esteri che hanno molti più soldi da investire in ricerca, però anche noi possiamo fare il nostro. Per fare il nostro, per esempio, a Fano, possiamo investire su questo polo, dandogli nuove aule, cercando di intercettare molti più studenti. Cosa significa? Più studenti significa più giro di informazioni, più scambio di informazioni, più abbassamento di costi di servizi. Dopo questo, un impegno che può essere di un consigliere comunale, di un ruolo importante all'interno della pubblica assisa, è quello di dire ci sono aziende importanti che investono in Italia e che lavorano in Italia nelle biotecnologie. Si parla di un mercato di 10-12 miliardi di euro. Cosa possiamo fare per intercettarle e portarne qualcuno a Fano? Io credo che questo sia possibile. Credo che sia possibile perché noi offriamo personale altamente specializzato e per offrire altamente specializzato, questi ragazzi, dobbiamo dargli la possibilità di formarsi e stare in questa città. Ok, voi siete sempre contraddistinti da una certa pragmaticità nei vostri interventi e quindi poniamo il caso che da domani Edoardo Carboni arrivi in consiglio comunale. Che cosa farebbe di concreto, subito? La prima cosa è cercare dei fondi per investire nell'università. Noi dobbiamo arrivare ad avere il polo tecnologico dell'Università di Urbino a Fano. Abbiamo tutte le caratteristiche per averlo, abbiamo delle strutture adeguate e siamo sul mare, quindi è una cosa abbastanza unica. Possiamo fare questo. Per fare questo significa che noi da domani dobbiamo cercare dei soldi, dobbiamo cercare degli investitori e dobbiamo uscire un po' da Fano. Fano non è il mondo. Fano è Fano, è la terza città della Marca, è una bellissima città, ma abbiamo bisogno di fare sinergia, abbiamo bisogno di creare una squadra intorno a noi che abbia dei rapporti importanti. Questo è quello che io farei domani. Fatto questo significa che noi possiamo creare le condizioni per portare delle aziende importanti a Fano. Seconda cosa, quando io parlo di formazione, che non è università, io parlo dei corsi ITS. I corsi ITS sono corsi altamente specializzanti, di istruzione superiore, che in Europa funzionano molto. Penso alla Germania forma 800 mila persone all'anno con questi corsi. In Italia sono 10 mila solo all'anno, ma l'85% di queste persone che passano attraverso questi corsi automaticamente viene assunta nelle aziende. Quindi anche qui si tratta di, siccome sono gli enti locali che si occupano di questo, insieme all'università, insieme ai professori, insieme comunque a una squadra importante, cosa possiamo fare noi per portarne uno o due qui? Credo che il mio impegno si possa puntare su questa cosa, perché noi dobbiamo rinnovare il tessuto imprenditoriale e produttivo di questa città, perché il mondo va da una parte e noi stiamo andando da un'altra. E cosa possiamo fare per creare delle nuove economie in questa città? Questo è il tema. Poi per non parlare del fatto che piano piano, 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 arriva la robotizzazione, la tecnologia toglierà posti di lavoro. Allora, o noi intercettiamo e iniziamo a anticipare questo discorso, o se no, ma non dico ai miei figli, non ne ho, ma dice già io farò fatica fra dieci anni in un apparato produttivo che è manifatturire fondamentalmente. Cosa possiamo fare per cambiarlo? Però il tema della formazione del lavoro e anche quello dell'università è un tema che si può coniugare anche a diverse fasce della società. Insomma, un po' per tutti, la comunità gravita attorno a questi concetti. Insomma, quindi questi sono concetti che meritano un'attenzione a 360 gradi. Sì, il ragazzo che è ben formato e che trova lavoro non è un peso per la famiglia. Chiaramente dove peso intendo che a 30-40 anni ancora purtroppo non possono andare via di casa, non possono prendere un mutuo, nessuna banca ti dà credito. Questo è un tema. Il secondo, quando io parlo di corsi TS, significa che chi 40-50 anni perde il lavoro al posto di purtroppo navigare in quello che è il mondo delle interinali con contratti di una settimana, due settimane, formato da un ente anche pubblico, perché l'ente pubblico ti deve dire cosa devi fare, perché questo è il vero tema. Cioè noi dobbiamo avere dei centri per l'impiego che ti prendono e ti dicono tu adesso dovresti fare questo, perché il mondo del lavoro richiede questo. Quindi magari a 50 anni, siccome non puoi andare in pensione, perché purtroppo sei ancora giovane, hai anche una vita davanti, perché no? L'ente ti forma per un altro lavoro, quindi sei pronto per il mondo del lavoro di oggi. Questo è importante. Quindi lavoro e formazione e università sono temi che poi si ripercuotono in tutte le fasce della città, le fasce di età della città. Ecco, un tema che penso a tutti coloro che si sono seduti su quella sedia prima di lei hanno trattato, glielo faccio anche a lei, perché il tema della sanità è centrale in questa campagna elettorale. Difesa del Santa Croce, Massimo Seri qui ha portato proprio le sue argomentazioni, con le quali ha difeso l'ospedale Santa Croce. Però mi sembra che voi siete stati un po' ai margini di questa discussione, vi ha appassionato poco, è un tema che vedete distante, cosa possiamo dire a questo riguardo? Noi siamo entrati nel tema chiaramente in maniera non incisiva, anche perché le decisioni sono regionali. Io credo una cosa come punto di partenza, se noi parliamo di Santa Croce in questo momento, e il Santa Croce è aperto e ha avuto 14 milioni di euro di investimenti, è perché c'è stato un sindaco, Massimo Seri, che ha puntato i piedi. Ha puntato i piedi su un territorio, non solo su Fano, perché noi rappresentiamo poi un territorio come bacino di utenza, e quindi il Santa Croce rimane lì. Io dico sempre che i giovani si devono occupare di sanità, anche quando ti dicono no, tu dovresti occupare di politiche giovanili, no, la politica giovanile è anche la sanità, perché sanità significa non solo che noi abbiamo i nostri cari che hanno bisogno di cure, abbiamo i nonni, quindi chiaramente siamo toccati comunque. La sanità sono anche posti di lavoro. Siccome noi siamo stati vittime di una politica divisoria che ha cercato di fare politica col metro, ospedale a Fano, ospedale, non è questo. Quando io parlo di sanità intendo domani, visto che noi abbiamo l'Università d'Ancona che fa medicina, fa ostetricia, fa infermieristica, fa fisioterapia, domani cosa possiamo fare per avere dei posti di lavoro sani nella sanità, senza cooperative, con stipendi adeguati, con medici che hanno ore di lavoro giuste, perché sono ragazzi, trent'anni come me, che si affacciano al mondo del lavoro e della sanità. Questo significa rendere la vita migliore anche ai medici di base, perché tutto poi... Questo significa occuparsi di sanità. Poi ci sono due grandi temi, secondo me, che vanno affrontati come giovani, perché è un patto politico, bisogna fare un progetto politico per questa provincia. Il primo è che l'ospedale nuovo se deve essere di livello ha bisogno dell'Università. Questo significa che io continuerò questa mia battaglia per dire se la Regione vuol fare un ospedale di livello, come tutti gli ospedali di livello in Italia, ha bisogno di un centro universitario di ricerca. Questo che sia pochi posti, ma io ho bisogno di pensare che domani si faccia ricerca in un ospedale di questa provincia. questa provincia potrebbe essere credibile dal punto di vista sanitario. Noi abbiamo avuto un protocollo firmato da Massimo insieme alla Regione, che è un punto di partenza ottimo. Adesso però dobbiamo su queste basi costruire una sanità di livello. La seconda cosa, che è quello che è il tema che poi mi preme di più per avere un progetto serio politico sanitario, è quello di dire che noi per anni abbiamo pagato le scelte di dirigenti regionali di Ancona sulla sanità. Con un controllo del pubblico minimo chiaramente, perché l'Assemblea dei Sindaci è spogliata un po' nei suoi poteri. Certo. Allora perché no creare le basi per avere un'autonomia giuridica di questa provincia dal punto di vista sanitario, con un asur provinciale, con un'Assemblea dei Sindaci che ha il suo potere, allora non solo consultivo, ma in quel momento rappresentativo veramente di un territorio, allora si passa la balla ai territori. Perché la sanità non è di fan o di peso, la sanità è di un territorio. Bisogna raccontare a tutti quelli che hanno fatto casino nei giornali che se noi abbiamo un pronto soccorso efficiente, e fa benissimo, ma Cagli muoiono domani, non è una vittoria. Non è una vittoria. La sanità, ci sono state lotte politiche in 70 anni di Repubblica, quindi bisogna continuare in quella direzione. Quindi bisogna avere un'autonomia che ci possa far dire che le decisioni vanno prese da un pubblico consapevole e serio. E forse l'autonomia giuridica dell'area vasta va nella giusta direzione. Le faccio l'ultima domanda. Si auspica più giovani in politica e perché naturalmente? Mi auspico più giovani in politica senza la retorica della politica che dice diamo spazio ai giovani. Lo spazio ce lo dobbiamo prendere. Ce lo dobbiamo prendere, come dicevo prima, in maniera sportiva, con le nostre competenze e le nostre idee. E laddove non ci viene dato dobbiamo sgomitare. Perché chi è stato prima di noi lì è perché ha voluto esserci. E tu per fare bisogna essere. E quindi dobbiamo prenderci posa. Io nel 2016 ho avuto la nomina in una partecipata a S. È stata una bella esperienza. Però nel momento in cui ho avuto la nomina mi hanno già subito accusato di poltronismo. E anche questo rientra in quella famosa retorica che dice quando tu sei giovane devi volere, ma quando vai vuol dire che sei un poltronista. No, non dobbiamo fermarci a questo. Per fare dobbiamo essere qualcuno. E bisogna prenderceli posti. Dobbiamo sgomitare. E laddove le cose non funzionano vanno denunciate. Va anche bussata alle porte e ha detto qui adesso decido io. Poi posso sbagliare, non importa, ma vogliamo decidere noi. Bene, quindi un'immagine sicuramente che ci ha regalato Edoardo Carboni di un mondo giovanile che vuole contare nel mondo della politica, nelle decisioni, nelle famose stanze dei bottoni, come si usava a dire una volta tanto tempo fa. Quindi grazie per essere stato qui e averci espresso il suo desiderio e anche le sue aspirazioni. Lavoro, formazione e università a questi suoi claim. Edoardo Carboni, candidato nelle liste di noi giovani per Fano, alla prossima tornata elettorale. Grazie. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti. A voi cari telespettatori. Arrivederci.